Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Niente come la cronaca nera racconta il nostro tempo, in cui neanche il sapere dimostrato è certezza. Come nel caso Yara Gambirasio, quello con il più alto impiego di mezzi. Il verdetto, a 5 anni dalla Cassazione che inchiodò Massimo Bossetti come il colpevole, ma potrebbe essere rimesso in discussione. 13 anni dopo l'angoscia della scomparsa, ad assistere al tentativo di scoperchiare una sentenza tombale. A rinnovare il mistero del martirio di Yara Gambirasio e del suo carnefice Massimo Giuseppe Bossetti, fino a prova contraria. Il criminologo, che ha analizzato attentamente il caso dall'inizio e che ha compiuto un vero e proprio studio scientifico, è convinto dell'innocenza di Bossetti. In quanto la prova fino ad esso considerata regina, non esiste più. Si trattava del DNA, o meglio delle tracce di DNA trovate nei luoghi di indagine, DNA che sarebbe appartenuto allo stesso Bossetti. Mendola ha riferito ulteriori precisazioni affermando che Non hanno trovato il DNA di Bossetti, ma solo una parte del DNA. È il cosiddetto mitocondriale che non identifica l'imputato. Queste le parole del criminologo. Cosa succederà adesso? Cosa succederà adesso?